Una cosa, dopo il primo colpo di punta, chiudete e mirate, ok? Angolo 2, l'assorbimento è diverso, ok? Parla da angolo 2, mirare, entrare. Angolo 3, angolo 4, angolo 5, come il 3. Si, 2, attenzione, non è questo, è questo, vi allontano, portate il piede via, entra la mano. 3, 2, attenzione, 3. 3. Scusate, guarda, visto che ho aperto non potrei entrare subito, coprendo. 3, si taglia subito con la punta, è quello che faccio, entro subito con la punta. Mentre vai in avanti colpisce. Manca, è quello che faccio, ok, ok. 4, entro subito con la punta, certo? Scusate, più veloce di così, è il movimento più ampio. La punta è qua, guarda, questo qui non va oltre, dopo la punta. Questa è sempre la chiusura, dopo la studiamo bene la chiusura. Io comunque vi dico sempre questo, uno, un fiocco e mirale. Ok. Senti. Senti. Ti faccio tutti facciamo bene. Allora, assorbimento. Allora, andiamo a vedere alcuni particolari. Pollici, mignoli, avventatori. Manno, piedi, entro, fiocco, mirale. Due. Mirale, entrare, colpire, fiocco, mirale. Tre. Triangolo, fiocco. Nell'ultima parte, live. Quattro. Due. Tre. Cinco. Molto bene. Ok. Ai порa. Come vedete. 1... Grazie a tutti.